Gorilla testa di cazzo possiamo dire qualcosa il nostro Gorilla sempre le solite cose ciao Gorilla noi siamo i The Straight di Verona io sono Ricciardo e siamo qui a Firenze per la finale dell'emergenza contest dove abbiamo suonato nella finalissima degli UTP 11 che sono rimasti di tutta Italia abbiamo appena finito siamo ancora un po emozionati da come si può sentire anche dalla voce diciamo che suonare qua è meglio di una scoppata può dire stata una figata incredibile anche perché insomma abbiamo ricevuto un ottimo feedback dai giudici e quindi fantastico adesso ci godiamo la serata un'altra 28 dipende da cosa scriviamo secondo me è la musica sai che tu come la musica è lo sfogo quindi è come farsi una pera è la stessa cosa energia dissipata la nostra musica è forte perché siamo forti Ale è un fisico da giocatore di bocce tanta energia e tante emozioni tante emozioni il giorno che ho rubato la chitarra di mio padre avevo sempre a rock and roll acceso 24 ore su 24 a casa dai miei genitori e non potevo sbagliare strada insomma anche io dai da mio padre che aveva la sala prove in camera mia praticamente per cui non ho potuto resistere alla tentazione di provare e noi siamo in the street e ci trovate su music.fm guerilla motherfucker no al contrario noi siamo in the street e siamo su guerilla.fm music motherfucker no al contrario ma ma Grazie per la visione!